Mettere le gomme per l'inverno, dare un'occhiata al motore, controllare che i pezzi, vedi alla voce calciatori dell'ingranaggio, siano tutti al proprio posto e prepararsi a pit stop sempre più frequenti. Immaginiamo che così Moreno Longo, team principal della scuderia bianco-rossa, abbia vissuto la sosta del campionato. Il suo Bari ha nel paniere 11 risultati utili di fila e la vittoria di otto giorni fa a Salerno ha dato valore ai sei pareggi consecutivi che la precedevano. All'orizzonte ci sono sette partite in poco più di un mese, di qui sino a fine 2024. Allora il campionato sarà l'alba del girone di ritorno e i rapporti di forza saranno meglio delineati. Questo Bari, quarto per punti totalizzati dalla chiusura del mercato, ha una stella polare da seguire, la salvezza prima di tutto, ma coltiva nello spogliatoio l'ambizione di restare in zona play-off dove si trova oggi. Lo fa con la fame di chi sta vivendo la pausa nazionale come un divieto di sosta.